Le tre del pomeriggio si aprono le porte della basilica, la statua della Madonna viene consegnata ai pescatori e la loro protettrice, i martiri del mare, la patrona della città di Molfetta, che con il mare ha un rapporto antico. È il momento più intenso della festa, parte la lunga processione fino all'imbarco del simulacro sui tre pescherecci. Inizia così la caratteristica sagra mare della Madonna dei Martiri, in una città vestita a festa da giorni, nella quale tornano gli emigrati, figli e nipoti, di chi è stato costretto a lasciarla da piccolo in cerca di fortuna, anche dall'altra parte dell'oceano. Sacro e profano insieme, i festaioli si tuffano in mare, devozione e tradizione si fondono e non c'è divieto che tenga, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Un culto antico, quello della Madonna dei Martiri, risale al XII secolo, quando Molfetta era a crocevia anche dei pellegrinaggi verso la Terra Santa. La festa a lei dedicata fu istituita nel 1395, un tempo durava otto giorni, poi ridotti a tre. Si celebra in ogni parte del mondo, dove c'è, come a Doboken, negli Stati Uniti, di fronte all'isola di Manhattan, una folta comunità di Molfettesi. La festa a lei dedicata fu istituita nel 1395, un tempo durava otto giorni, poi ridotti a tre.